Niente, bellissima gara, il nostro team si è visto stavolta, è un team solido, tutti quanti bravissimi, sono tutti quanti bravi a giocare a pallone, diciamo, e niente, sono contento della mia prestazione perché non me l'aspettavo nemmeno io, perché il mio mister Lucci non crede che me lo voglio dire, non mi doveva far giocare, poi ha cambiato idea. Il mister chi? Scotto. Scotto, scusi. Però ringrazio il mister Scotto che mi abbia dato fiducia, e niente, bellissima partita. Stasera mancava anche Bonanno, che il vostro bomber in questo inizio di gara sembrava che però non avesse bisogno di lui. Stasera avete giocato un'ottima gara, come giudichi la prova anche dei tuoi compagni, a parte la tua prestazione. No, no, bellissima partita, questo lo dico, anche senza Bonanno ci siamo proprio comportati bene, perché veramente quanti bravi siamo a giocare. Michele soprattutto ha giocato benissimo. Stasera era una sfida personale contro Pasquale Lucci, che gli vogliamo dire, visto che è stato sconfitto? Doveva imparare a giocare a pallone. Perché se vuole faccio insegnare ad Alberto, il nostro portiere è in carica. Ok, grazie mille, ti salutiamo, alla prossima.